Una parte del gruppo che è molto particolare perché sono italiani e che interpretano la musica andina, loro sono i Taifa dalla Sardegna, è solo una piccola parte del complesso Taifa che interpretano diversi brani latinoamericani e specificamente quello del famoso gruppo Intilimani La Sardegna La Sardegna La Sardegna La Sardegna La Sardegna La Sardegna